allora antonio eccoci arrivati a valle dolmo in provincia di palermo dobbiamo consegnare l'invito per la corrida alla signora enza cammarata andiamo grazie a tutti la signora enza cammarata venga postagnone grazie mille prego buona giornata una sera cercavamo la signora vincenza cammarata vincenza cammarata conosciuta forse come la la zia enza la zia enza la zia enza ah a zia enza asciugatata dove costa a metà asciugatata a metà asciugatata dove costa a zia ok grazie mille prego buonasera sono il postino della corrida valle d'ornese abbiamo un invito per la signora enza cammarata lei la signora in manacca ok allora signora questo è il suo invito però prima di consegnarlo io devo essere sicuro che sia lei la signora che noi cerchiamo lei ha tre figli si è nata a scillato si è vero che si ricorda tutte le date di nascita dei cittadini valle dolmese e allora non abbiamo più dubbi questo è il suo invito e come diciamo sempre alla corrida e non finisce qui grazie a tutti